Stiamo parlando di una squadra di elite, come ci si approccia a una squadra di elite così? Sicuramente con consapevolezza, con inconscienza anche e con grandissima volontà. Direi consapevolezza nelle nostre qualità e nei nostri meriti che ci hanno condotto fin qui, in un percorso che dura da un anno e mezzo, almeno io parto dalla mia gestione. E quindi dimostrare quelle forze che spesso hanno sorpreso anche noi stessi. L'incoscienza invece risiede nel fatto che devi essere pronto ad andare oltre certi limiti, sperimentando anche nuove strade, cercando di fare di tutto e di più per profondere ogni goccia di energia. Nella volontà poi è in questo, la volontà risiede nella capacità che abbiamo e che avremo di poter dimostrare che le partite non si vincono solo perché sulla carta sei più forte, ma perché sei più preciso, più veloce, più attento. E quindi sapere e essere responsabili, che abbiamo poche cose da fare ma vanno fatte molto molto bene per tutta la durata. Grazie.